Domani alle ore 18 presso il Teatro Bertoni di Battipaglia, lo scrittore Aldo Turtur presenterà il suo nuovo romanzo, Storia di Anno. Un'opera composta da due storie. La prima, ambientata nell'Africa australe, narra di una spedizione scientifica alla ricerca di una remota popolazione che custodisce le vestigia di un'antica civiltà rupestre. L'altra, incentrata sulle vicende di un vecchio marinaio e di un bimbo, si svolge in un borgo costiero oggetto delle mire di avidi speculatori edilizi. Storie parallele, si legge nella sinossi del romanzo, di universi lontani che si attraggono e respingono come i flutti di un'eterna risacca.